Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video, come avrete detto dal titolo, benvenuti in un video dei prodotti finiti. Allora, ho cercato di rigirarlo, insomma, non attendendo troppo, altrimenti si accumula una maniera di prodotti finiti e già ne abbiamo tanti di cui parlare oggi. Come al solito, come di mia abitudine, vi vado a mostrare e a parlare di prodotti finiti per quanto riguarda cura della casa, cura della persona, skin care, make up, profumi e cura di Niccolò, quindi qualcosa che magari mi tengo, insomma, da parte per parlarvene. E parto immediatamente perché ho tantissimi prodotti di cui mostrarvi, di cui parlarvi e sono sempre molto contenta perché devo dire che riesco a sfruttare bene poi effettivamente quello che compro. Partiamo subito e come sempre parto dalla categoria casa. Allora, ho terminato ben due confezioni di questo sciogli calcare della Smac. Per me è un must have nella pulizia del bagno. Questo è un prodotto, appunto, sciogli calcare, igienizzante e anche prevenzione, appunto, del calcare. Questo lo utilizzo per trattare la rubinetteria, anche i vetri, insomma, del box doccia, ma in generale se ho più tempo e sto facendo una pulizia più profonda, questo lo uso solamente per queste cose che vi ho detto e poi passo un altro prodotto sui sanitari. In alternativa, quando ho meno tempo e devo fare, appunto, una passata senza, appunto, impiegarci tanto, vado solamente con questo e vado ad igienizzare anche i sanitari. Sempre rimanendo il tema anticalcare, che mamma mia è una croce dentro sta casa, utilizzo anche questo qua, sempre Smac, ma lo sciogli calcare. Questo come lo utilizziamo? Lo utilizziamo per trattare il soffione della doccia, quindi lo metto in ammollo, per trattare la rubinetteria, nel senso i filtrini, quindi andiamo a smontare, mettiamo in un bicchierino con dentro l'anticalcare, appunto andiamo ad aiutarci in questa maniera. Quindi lo uso per fare, oppure anche per rimuovere del calcare che mi si forma sul piatto doccia. Io ho un piatto doccia nero, che è bellissimo, lo adoriamo, però logicamente non è grande amico del calcare, come il lavandino in fragranite nero che ho, nel senso tutto molto bello, però, insomma, logicamente il calcare si vede di più. Quindi quando voglio fare un'azione un po' più strong, invece dello spray, vado direttamente con questo qua. E a proposito, diciamo, di calcare, ho provato anche a prendere questo qua, l'acido citrico, perché dalla casa di Mattia, avevo visto che lo utilizzavo molto anche per trattare questo tipo di, proprio come anticalcare naturale, esatto, infatti anche nella confezione è ammorbidente, anticalcare, sgrassante e brillantante. Io l'ho utilizzato solamente per il trattamento, insomma, del calcare, non lo sono trovata sinceramente bene, potrei anche valutare di utilizzarlo per altre cose. Fatemi sapere se voi, come utilizzate voi l'acido citrico, in quale, diciamo, utilizzi, appunto, quindi anche se lo utilizzate per le lavatrici, insomma, fatemi sapere, ragazzi, gli usi, perché potrei naturalmente valutare anche questo tipo di opzione più naturale. Poi, vabbè, terminate queste salviettine qua, ragazzi, della Lisoform, sono salviette detergenti igienizzanti al limone, io queste le tengo sempre, adesso l'ho finita, mi sono dimenticata anche di riprenderle, però ne tengo sempre nella confezione in bagno, per quale motivo? Perché magari all'ultimo, cioè del tipo, sto qua sotto, apri, arriva qualcuno magari a trovarci, non ho tempo di mettermi lì, capa pezzetta, i detergenti, sciacqua, risciacqua, passo magari una passata appunto veloce di salviettina sui sanitari per rinfrescarli un pochino, quindi ce li ho, vi dico, mi durano tanto perché non è che li uso molto frequentemente, però per occasioni di questo tipo sono comode. Poi, sempre tema casa, pulizia, sgrassatore universale e igienizzante, questo qua della Windis, questo devo dire che l'ho utilizzato per lo più come tipo multisuperficie, nel senso che l'ho utilizzato per di più, non tanto in cucina, forse è capitato, ma per pulire insomma le superfici, buono. E poi, vado a mostrarvi un ammorbidente finito, questo qua della felce azzurra, al profumo di lavanda, che a me è un profumo che ragazzi piace, quindi spesso mi trovate con, che magari prediligo ecco la lavanda, insomma quando scelgo il detersivo, non male, naturalmente è un po' più, non è concentrato, quindi è un po' più liquidino, però non male, visti i prezzi che ultimamente si trovano con gli ammorbidenti, insomma mi va bene anche questo tipo di prodotto. Passiamo adesso alla skincare, ho terminato diversi prodottini, allora parto con l'acqua micellare, quindi il prodotto che uso per struccarmi, ho terminato questo qui della Balea, ne utilizzo insomma di diverse marche, testo anche diverse marche, ma comunque come prodotto struccante io uso l'acqua micellare con dischetti. Questa della Balea è molto buona, era la seconda confezione, ma in passato ne ho provate diverse, diciamo che quando mi capita di fare un ordine su DM, ne inserisco almeno due confezioni, perché comunque hanno un buon prezzo e io mi trovo sinceramente bene con il prodotto, quindi ottimo. Poi sempre fate di deterzione, o al mattino, o ripeto, dopo l'acqua micellare, io passo al detergente, quindi vado a mostrarvi due prodotti terminati, alla uno che ho tagliato perché l'ho utilizzato fino all'ultimo, ed è il gel detergente con acido salicidico ad azione purificante Mol Pure di Veralab, quindi dell'esterista cimica. Non era la prima volta che lo provavo, quindi lo conosco come prodotto e mi trovo sempre molto molto bene. Quando mi capita di fare un ordine, magari di approfittare di qualche sconto, sinceramente ce lo metto in mezzo perché è un buon prodotto, un buon detergente e lo uso la sera quando mi strucco dopo l'acqua micellare, quindi come secondo step, o al mattino, insomma, per lavarla in viso. E stessa, diciamo, funzione, quindi stesso metodo di lizzo, ma altro prodotto, insomma, diverso, altro detergente, questo qui di Alverde, anche questo l'avevo preso in un ordine fatto su DM, ed è un acqua wash gel per perli normali e miste, era appunto in formula gel, delicato, mi sono trovata bene, insomma, è al verde gel detergente alle alghe di mare per pelli normali e miste. Mi sono trovata bene, ragazzi, un gel detergente, insomma, valido ed economico. Vabbè, dischi di struccanti, ormai ragazzi io prendo solamente questi qua, li compro su Amazon, li trovo sempre sotto all'euro, intorno ai 90 centesimi, sono 50 pezzi, sono quadrati e sono maxi, mi trovo molto bene, quindi adesso, per esempio, quando mi capita di fare un ordine in Amazon, ne fico, insomma, una confezione e mezzo, così ce l'ho sempre disponibile e di scorta. Poi, skincare, questo prodotto, ragazzi, è top, mi è piaciuto tantissimo ed è un siero all'acido ialuronico di, a brand proprio Sephora. Questo me l'aveva consigliato una ragazza, insomma, una commessa, quando ero andata lì a comprare il fondotinta. Gli avevo parlato, insomma, di una cosa che avevo riscontrato, insomma, sulla mia pelle, mi ha detto, ma secondo me potrebbe aiutarti questo siero qui, provalo. L'ho provato ed effettivamente mi sono trovata talmente tanto bene che, una volta che l'ho terminato, che è questo qua, sono andata a comprarmi un'altra confezione che ho in bagno adesso in uso, è appunto l'acido ialuronico, io l'utilizzo mattina e sera prima di mettere la crema, quindi detergo il viso, contorno occhi, siero viso e poi crema o giorno o quella notte, quindi assolutamente strastra consigliato. Altro prodotto di skincare terminato sono due contorno occhi. Allora, il primo è sempre di Veralab, avevo approfittato per fare un ordine con il Black Friday, quindi approfittando dei loro sconti, devo dire, sono sempre molto interessanti durante il Black Friday. Ho preso questa crema contorno occhi, palpebre anti-age, elasticizzante, rimpolpante, go lift. Io poi ragazzi le confezioni le taglio, perché rimane sempre del prodotto, quindi le taglio e poi le rincastro così. Mi sono trovata molto molto bene, allora in generale mi sono trovata bene con molti contorno occhi, ma con alcuni, per esempio riscontro, che mi fanno uscire dei grani di miglio, qui ad esempio il contorno Kiehl's, famosissimo, a me, per me è troppo grasso, perché mi fa uscire appunto questi grani di miglio. E ho provato anche un campioncino di quello di Mulac, per fortuna che ho provato il campioncino, perché mi diede lo stesso problema. Con questo assolutamente no, mi sono trovata, ripeto, molto molto bene. Stesso discorso, posso fare ragazzi anche con questo contorno occhi, a parte il fatto che mi sembra che in passato mi durassero di più contorno occhi, forse perché non ero così costante come sono negli ultimi anni, non so, ma questo qua considerate mi è stato regalato a Natale, e io da Natale, adesso stiamo a fine febbraio, ho terminato due contorno occhi. Quindi, vabbè, insomma, comunque io li metto mattina e sera, non abbondo neanche tanto, perché poi, vabbè, la quantità, insomma, è quella che è, io la metto in questa zona qui e mi, essendo sempre anche in questa zona, diciamo, delle zampette di gallina, ecco che non ho ancora, però, insomma, diciamo, lo porto anche in questa zona, eppure, insomma, li consumo, diciamo, velocemente, ma mi trovo molto molto bene. Con entrambi non ho avuto il discorso dei grani di miglio, quindi, ottimo, adesso ne sto usando un altro, vi parlerò in futuro. Ultimo prodotto di skincare è un campioncino, nel senso, una mini taglia, siamo stati fuori il weekend scorso, siamo stati tre giorni, insomma, in montagna, quindi non mi porto, se ho a disposizione le mini taglie, porto quelle, piuttosto che portare le grandi confezioni, e ho approfittato così anche per testare qualche prodotto, anche un'occasione per farlo. Ho portato il Multi Intensive Jure, che è una crema littante, rimpolpante, anti-age e anti-rughe di Clarenne. Allora, ragazzi, io ho un debole per questo brand, cioè io adoro la loro skincare, tutti i prodotti che ho provato fino adesso di questo marchio mi sono sempre trovata benissimo. Ho utilizzato in passato la linea Multi Active, se non sbaglio, quella diciamo per le prime rughe, sia giorno che notte, top. E quando utilizzo questi prodotti, sempre belli, cioè, difficile che, se io anche testi un campioncino, quindi una bustina, è difficile che riesca a parlare male di questo, cioè, mi trovo proprio bene con questi prodotti. Hanno il loro costo, quindi logicamente non ce li ho sempre nella routine, insomma, nel skincare, in primis perché mi piace sperimentare e provare magari nuove marche, seconda cosa, perché comunque le creme di Clarenne hanno il loro considerevole costo, quindi alterno un pochino, però devo dire che mi trovo sempre benissimo. Questa l'ho utilizzata in viaggio mattina e sera, insomma, ho aperto un campioncino solo e mi è durata diverso tempo perché poi l'ho terminata anche qui in casa. Passiamo alla parte corpo, ho terminato, abbiamo terminato diversi bagnoschiuma, Dermomed, ci troviamo bene, ragazze, per il costo, per, insomma, le docce, cioè, sinceramente noi come bagnoschiuma andiamo più su brand di questo tipo, piuttosto che bagnoschiuma più costosi. Molto buono questo qui alla mandorla e sempre alla mandorla e cari te, questo qua di Vidal, altro brand per me top, insomma, noi ci troviamo benissimo, variamo le profumazioni a seconda anche del periodo dell'anno, in estate ci piacciono quelle molto fresche di talco, di muschio, ma quelle le uso sempre tutto l'anno, soprattutto quella arancione alla vitamina C, energizzante, proprio bella, insomma, per il periodo appunto caldo, mentre per l'inverno molto spesso vado su questa profumazione qua. Poi abbiamo terminato anche un bagnoschiuma di quelli, tra virgolette, un po' più costosi, nel senso ho terminato questo qua di Bottega Verde. Personalmente, se devo andare a comprare un bagnoschiuma perché finisce a casa, mi oriento più su queste, diciamo, marche qua. Poi capita che per regalo o per sfizio, approfittando di qualche sconto, cartolina, uno vado a prendere bagnoschiuma un po' più costosetti e molto buono, siamo trovati molto bene. Questo qua è la linea Dolce Inverno, note di marshmallow e vaniglia, l'abbiamo utilizzata appunto per bagnoschiuma, ho anche la crema corpo abbinato. Sempre per il corpo, ho terminato, scusate le condizioni, il Talastro Scrub di Sien. Io purtroppo non ce l'ho vicinissimo Sien, cioè neanche lontano, però non è nelle mie zone, no Sien, scusatemi Lidl, quindi non è un supermercato cui vado insomma regolarmente, ma appena ci ricapito me lo prendo perché è veramente top, performante e economicissimo. Poi, vabbè, terminato questo qui, il Neutromed 3.5, questo lo utilizzo durante la... quando ho il ciclo, in pratica. Utilizzo questo pH qui, questo tipo di detergente, lo facciamo insomma bene. Il mio storico deodorante, ragazze, performante ancora dopo anni, mi trovo benissimo al Niva Perl & Beauty, insomma di questa linea appunto Roll On, poi un semplice dentifricio, passo del capitano, menta, colgate, insomma variamo un po'. E poi vi parlo ragazzi di una crema corpo che ho terminato, di Bath & Body Works. Ve ne parlo perché? Perché questo brand è diventato il mio brand preferito per le creme corpo. Le regalo molto volentieri, le acquisto molto volentieri e devo dire che ho altre cose, altre creme insomma adesso da provare, ma perché mi sono state insomma regalate ecco con il Natale. Ma se vado io, diciamo adesso, diciamo che se io devo comprare una crema per il corpo, ormai mi oriento solamente su Bath & Body Works. Aspetto magari che ci siano qualche sconto, qualche saldo insomma per ammortizzare un pochetto il costo, perché comunque sono creme che un 200 grammi insomma costano sui 20 euro, quindi magari attendo di trovare qualche sconticino quando ci sono i saldi, soprattutto a fine saldi, fanno dei prezzi super top, sono stata brava, questi saldi invernali non ho preso nulla da Bath & Body Works, in primis perché hanno le spese di spedizione, cioè sono delle spese di spedizione molto alta, cioè per arrivare a quelle gratuite l'importo è altino. E qui a Roma ce l'ho, ma sta dall'altra parte insomma, quindi è in viaggio insomma arrivarci. Quindi questo per dirvi che hanno fatto dei prezzi veramente super, però in primis ho l'armadietto insomma pieno tra i regali insomma di Natale, una crema che avevo già acquistato io da Bath & Body Works con il Black Friday, però se devo adesso procedere ad acquistare una nuova crema corpo, spendo quel qualcosa in più, aspetto di approfittare di qualche promozione, ma compro questo brand perché è top ragazzi, è profumatissimo, ma anche bello idratante, quindi consigliatissimo. Capelli, terminata questa maschera di pomelo, le uso come maschere diciamo pre trottanti, cioè pre shampoo, insomma quindi le tengo in posta magari diverso tempo, se sono in casa, se lavoro da casa, insomma me le metto su qualche ora e poi quando finisco di lavorare vado in doccia e sciacquo tutto e mi trovo sinceramente molto bene. Un altro prodotto con il quale mi sono trovata molto bene, guardate, sono un po' sporco, però mi trovo bene, ah no scusatemi, questo qua è il balsamo che comunque ripeto mi sono trovata bene con il prodotto, io non collaboro più da tempo appunto con pomelo, ci ho collaborato per diverso tempo, ho testato tanti loro prodotti, buono, di questa linea qui, questa verde, mi piace molto il shampoo, quello un po' scrub, insomma, per il cuoio capelluto, ovviamente è buono. Ultimo prodotto per i capelli, questo prodotto della Redken, mi era stato poi regalato, se non sbaglio Pasqua dell'anno scorso, dai miei genitori, perché mi hanno detto che ti facciamo l'uovo, vuoi un qualcosa, vuoi un regalo, cosa che vi dico, gli ho mandato il link, l'hanno preso su Amazon, perché volevo provare un prodotto della Redken, non hanno costi bassissimi, quindi me lo sono fatto regalare dai miei, e questo qua era appunto un trattamento senza risciacquo, da mettere, quando quindi ha tamponato i capelli, si mette sulle lunghette, si pettina, così si distribuisce, si attende un attimo e si passa poi all'asciugatura, aiuta un po' anche a definire, a chiudere un po' il capello, non mi sono trovata male, io con i capelli un po' ci sto facendo la lotta, ultimamente, anche se devo dirvi che l'ultimo shampoo, ho provato nuova maschera per capelli, che mi ha consigliato una ragazza di voi, non mi voglio pronunciare perché è il primo utilizzo, però, bello, vediamo con gli utilizzi futuri. Passiamo adesso a due profumi che ho terminato, ho terminato questo qui di Narciso, che è il Mask Noir Rose, ed è buonissimo, ragazze, veramente, no, io lo adoro, mi piace tantissimo, e me l'ha regalato un annetto fa Manuele, e quindi alternandolo, perché comunque ne ho diversi, mi ha durato insomma un pochetto, ma me lo devo ricomprare, no, è troppo buono, veramente, veramente, veramente buono, Narciso Rodriguez si fa pagare abbastanza per questo profumo, però è veramente, veramente buono. Altro profumo terminato, Flower by Kenzo, mi piace, cioè a me, insomma, molti lo vedono come un profumo un po' da vecchia, forse perché andava tanto in passato, io mi ricordo anche mamma, insomma, ce l'aveva nel bagno quando ero piccolina, e pure a me piace, ragazze, quindi di tanto in tanto, insomma, me lo compro, ma adesso devo riprendere lui. Passiamo al make-up, ragazze, ho ben due, quattro, sei prodotti di make-up di cui parlarvi, tra cui due fondotinta. Partiamo da loro, dai, partiamo da loro. Allora, il primo di cui voglio parlarvi è il Forever di Dior, ragazze, Forever di Dior, un fondotinta che io ho scavato, insomma, quello che costa, proprio, me lo so, proprio scavato dentro con una palettina che ho, l'ho svuotato ben bene, io utilizzavo, naturalmente ho il, quello matte, scolazione 2N, mi sono trovata molto bene, perché comunque faceva veramente un incarnato, sul mio profilo di Instagram trovate anche un reel dove ve lo faccio vedere, anche metà viso, insomma, mi faccio dei confronti, veramente è bella, ma, come posso dire, il risultato, ecco, affinava proprio la grana, mi è piaciuto molto, però mi faceva alcuni difesti in alcune zone del viso, come se si andava un po' ad accumulare, e quindi quando poi sono andata, dove è terminato, sono andata a scegliere un altro prodotto, mi sono guardata un po' intorno, quindi assolutamente buonissimo, fa un effetto stupendo sul viso, però avevo notato questa piccola, questo piccolo difettuccio, ho detto, visto il costo, magari prima di ricomprarlo proviamo qualche altra marca, e in quell'occasione sono atterrata su il tent Idol Ultrawear di Lancome, che è quello che vi dicevo che ho comprato da Sephora, e la commessa mi ha, diciamo, consigliato anche il siero, io lo utilizzo nella colorazione 210C, questo qua, ed è anche quello che ho indosso, ragazze, mi sono trovata molto bene, talmente tanto bene, che insomma me lo sono anche ricomprato, quindi adesso l'altro è in uso, insomma, in bagno, costa circa una cinquantina di euro, però se aspettate qualche codice sconto, se guardate un po' su internet, pensate io pure l'avevo comprato c'è la prima volta, l'ho comprato col 30%, perché da Sephora, quei giorni che sono passata, facevano il 30% su Lancome, e non lo sapevo, insomma, me l'ha provato, insomma, la ragazza sul viso, mi è piaciuto l'effetto, decisi di comprarlo, e sono riuscita a trovarlo sempre, all'incirca sui 35 euro, su Notino, quindi l'altro l'ho comprato, conoscendo già la colorazione, andavo, potevo andare tranquilla anche su internet, l'ho ricomprato su Notino, e mi sono trovata molto bene, ragazzi, questa qua è la confezione, anche questo bello svuotato, e sempre l'erogatore così a pompetta, molto comodo, buono, allora rispetto, ho notato che, per esempio, questo mi è durato molto di più, cioè ho ammortizzato il prezzo, cioè la spesa, in diversi mesi di utilizzo, cioè di più rispetto a questo, non è durato poco neanche questo qua, ragazzi, intendiamoci, però meno rispetto al Forever, però mi sono trovata molto bene, quello che indosso adesso, secondo me fa un bel effetto sul viso, terminato il mio correttore, ormai da diverso tempo, che è il Photofocus Concealer di Wet n Wild, io lo prendo nella colorazione Light Medium Beige, e mi trovo bene, ragazzi, è quello che indosso anche in questo momento, fa il suo dovere, insomma, non ho particolari occhiaie scure, insomma, da dover trattare, quindi anche un prodotto economico come questo qui fa il suo, senza problemi. Altri must have sono Mattifying, questa è la cipra, insomma, di Essence, che è la cipra che io utilizzo per tutti i giorni, mi oriento sempre su marche così, diciamo, economiche, e fanno il loro e non costano tanto, anche perché io le cipre le consumo molto velocemente. E poi l'altro must, che è sempre a brand Essence, è la matita per sopracciglia, che è la stessa che indosso anche in questo momento, con la quale ho andato un po' a ridisegnare, a riempire, cioè, nel senso, io ce le ho, ma ce le ho chiare, e mi piace invece fare più definizione, perché penso che anche definisca un po' lo sguardo, il trucco, gli occhi. Ultimamente sto prendendo la colorazione 13 Cool Blonde, che è pure quella che indosso, in alternativa andavo sulla 04 Blonde, una delle due, vanno bene entrambe, anche perché non sempre si trovano, quindi se trovo un colore o l'altro, insomma, quello che c'è, prendo. E, buona ragazze, in Euro 89, fanno il loro egregio lavoro, secondo me, e il prezzo è economico. Un altro prodotto che ho terminato è un matitone rossetto di Rouge Baiser, che è un brand che io ho conosciuto perché, quando lavoravo appunto in profumeria, non nell'ultima esperienza, ma nella mia esperienza quella è un po' più lunga, diversi anni fa ormai. Avevamo questo brand, e quindi avevo avuto modo di testare, insomma, dei prodotti lì, tra cui questo matitone bellissimo, matte, in elaborazione 01 Beige Rosé, ed era veramente bello, bello, bello. Ho cercato un po' su internet, riesco forse a reperirlo, devo capire perché devo capire, insomma, che siti sono quelli che ce l'hanno, e ha un costo di circa di una ventina di euro, se non sbaglio, forse sono riuscito a trovarlo intorno ai 15. Molto buono, sono un po' frenata da ricomprarlo perché mi è piaciuto tantissimo, mi è dispiaciuto tanto quando l'ho terminato, ma ho tanti prodotti labbra, quindi sono un po' titubante da questo punto di vista, però veramente un buon prodotto. Termino con tre prodottini, così, insomma, di Niccolò, non è che li tengo, insomma, tutti, i pannolini, lo sapete, quelli che utilizziamo, insomma, un po' a giro sono sempre quelli. Ho tenuto da parte giusto questo qua, che è l'amido di, cioè la polvere finissima con amido di riso, che io utilizzo, tipo borotarco, diciamo, lo utilizzo per il cambio pannolino, vedo che gli lenisce tanto, anche l'estate, magari quando sudano, nelle zone, insomma, pannolino, gli si creano le irritazioni, vedo che questo aiuta, però l'utilizzo solo, cioè, sul corpo no, perché Niccolò, poi soffre di dermatite atopica, quindi dobbiamo idratare piuttosto che seccare. E poi, cambio pannolino, o Trudy, questa ci è stata regalata, se non sbaglio, è una pasta protettiva cambio, all'ossido di zinco, polline e calendula, non male, non tra le preferite, insomma, che ho testato nel tempo, però non male. E poi, vabbè, queste, perché io ve le segnalo sempre, sono le nostre salghiette preferite, perché sono bene imbevute e le prendo sempre quando BdB mi manda il messaggino dei Pampers Day, perché si riescono a prendere, acquistano almeno due scatoloncini, quindi fate una bella scorta che vi dura un pochino, però le prendete all'incirca un euro al pezzo, quindi un buon prezzo. E nulla, ragazze, questo qua è stato tutto il mio, i prodotti finiti che ho terminato, insomma, nel periodo, spero, come sempre, che queste chiacchiere, che durano sempre oltre i 20 minuti, ragazze, scusatemi, comunque vi facciano piacere, vi facciano compagnia e vi diano modo, insomma, di conoscere anche qualche prodotto diverso. Fatemi sapere i vostri prodotti, insomma, preferiti, fatemi sapere l'utilizzo dell'acido citrico e fatemi sapere anche qual è il vostro fondotinta preferito. Ora, l'ho appena riacquistato, quindi, naturalmente, lo riacquisterò tra un po', perché a me sinceramente piace avere un prodotto per volta, per non mandarlo appunto sprecato, però fatemi sapere qual è il vostro fondotinta preferito qui sotto nei commenti, perché magari la prossima volta posso testarlo, se fa caso, insomma, della mia pelle. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video, se vi va, ciao!